FAMMI CAPIRE BENE Sono tutti morti. Solo un uomo può autorizzare un attacco simile. E ho votato per lui. Colleghi leader mondiali, la nostra nazione è in guerra. Questo è un avanzato sistema di armamenti che può annientare i vostri paesi per 14 volte. Per farlo basta spingere un solo pulsante. Boom. È la più grande ridistribuzione del potere che l'umanità abbia mai visto. E se il presidente non fosse il vero presidente? Lei è pazzo. Per il nostro governo e le nostre famiglie ogni traccia della nostra esistenza è stata eliminata. Dobbiamo pensare di non poterci fidare di nessuno. Però c'è un uomo. Stai bene? Sì. Tu stai bene? Ho il colesterolo alto. Siamo rimasti solo noi. Muoviamoci. Il mondo non si salva da solo. Chiunque sia stato, tornerà. Se ci fossero dei sopravvissuti... Faranno un passo falso. E quando succederà, io li annienterò. Benvenuti all'inferno. Dove siete? È tutto, generale. Chiamami giù. Il mondo. Il mondo. Il mondo. Grazie a tutti.